Grazie a tutti. Questa ultima sollecitazione di Ferrero noi la accogliamo e magari appunto lavoreremo nelle prossime settimane per vedere se è possibile costruire questo coordinamento e magari lanciare qualche messaggio in questa direzione appunto. Eh ringrazio tutti per essere stati fino alla fine abbiamo eh sacrificato tre o quattro compagni e compagne che erano previsti negli interventi e li li recupereremo in nelle prossime occasioni. Grazie a tutti di nuovo.